Una buona giornata ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per traffico intenso code tra Valdarno e Incisa Reggello, rallentamenti tra Firenze Nord e Barberino, vietato il transito ai mezzi pesanti tra Barberino e Aglio. Sulla A12 in direzione Livorno ci sono code a tratti tra Massa e il Vivio per il raccordo Lucca-Viareggio in direzione Livorno. Sulla Fipilì per lavori un chilometro di coda in entrambe le direzioni tra Ginestra, Fiorentina ed Empoli Est. Chiuso lo svincolo di Montelupo-Fiorentino in entrata in entrambe le direzioni e in uscita in direzione Mare. Buon versi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!